ciao bimbi oggi siamo fuori oggi abbiamo portato una sottra sorpresa pg max non c'è niente dentro perchè? perchè non c'è niente dentro? bisogna fare la calla e fare il caffè vediamo il caffè bisogna fare la calla di pg max quindi dovete indovinare voi vediamo quanto indovinate io arrivo prima 10 e vince aspetta! una alla volta guarda se ha soccato le forbici va ah ha vinto simone quindi vinti? no ha vinto niente a lui no lui è salvo no no vai vai devo guardare secondo te che personaggio è? no prima di tirarlo fuori devi dirlo il personaggio è giusto in mano cos'è? è giusto in mano io ero fuori? no è il minuto della notte oh hai perso vai simone aspetta non guardare eh ah brava non sapevo ma hai sentito non guardare cos'è secondo te? non lo so bambino o chi? non lo so dai devi dire il nome non so come si chiama e chi è? bambino o quanto? bambino o quanto? bambino passa anche se passa per la strada? no chi è bambino? non so chi è dai bambino 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 che secondo te? gatto vogliamo? ma non becchia mai gatto voi bambino 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 ma chi sei? vai simone puoi recuperare eh bambino non guardare non guardare io guardo per questo bambino chi è? vieni di nuovo gatto o vuoi che però non lo prendi? chi è? chi è? è difficile non mi ha fatto toccare con la testa secondo te chi è? non puoi guardare secondo te chi è? non sai andiamo bravo non mi ha dominata felice la bustezza guardare vediamo vai guardare ne ho capito chi è? non so vedo cosa può essere non so ha perso non so chi pesca bravo guarda qua 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 ora io posso vedere i pescato? tutti i personaggi ok lui hai pescato? direi proprio di no si chiama lunetta? ah si non so che cosa chiamasse più vero è la zona questa che ho preso no è così cos'è? questa andiamo bravo vai vai non guardare non guardare è una roba gigantetta quando può essere? chi può essere? chi? chi? io voglio vedere vai non puoi vedere dopo vi vedi altri personaggi chi è? chi è secondo te? chi è secondo te? cinque quattro tre devi dire un nome vai e invece gatto boy questa cosa vai simone è una roba gigantetta è una roba gigantetta è una roba gigantetta è una roba gigantetta mi dispiace ecco chi è la lui passiamo l'ultima testa dai vai guardare guardare chi è? romeo vai romeo vai vai guardare che ti sembra? capo vediamo allora tu quasi l'ho indovinato lui l'ho indovinato si tutti 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 te li hai indovinati tu? e tu invece che hai indovinato? tu hai indovinato romeo io l'ho indovinato io l'ho indovinato io l'ho indovinato io l'ho indovinato la prossima volta la sfida la scegli tu che dici? la prossima sfida la scegli tu ma ve ne fatto? per questo video è tutto guardate gli altri video mettete mi piace commentate al canale al canale ciao bambini ma no basta cosa siamo lo so vediamo ma regia ciao bambini oggi oggi cosa facciamo? cuciniamo dopo ti voglio presentare anche una mia amica spaziale posso invitare una amica a cena? posso ma io posso invitare una amica a cena? perché no? si ho detto ma ma non mi lo allora io ti presento a zoo è la mia amica ciao zoo ciao zoo ciao oh carezzala così bella guarda come ne baci? guarda se faccio così guarda zoo aspetta vedi che ride bellina uhu noi vogliamo mangiare la pappa è vero piccolina? ehm mi viene di banane o una? ma è contenta? vuole le banane? si vuole le banane si bellina tieni mangia mangi siamo che contenta bellina e una patatina anche la patatina vuole la patatina vuole la patatina è contentissima guarda guarda come si straffa come di cibo e a me niente a me niente il dolcetto è a forma di uno ma che altro cosa è cucinare? e anche panna vediamo ma meraviglia lo devo mettere tu non vai a dormire ma no che ne mangiamo ma non ci cucina niente al forno? tutta roba è pronta è facile così fare il cuoco eh mamma non è lì più? ma cosa? ma vogliamo le banane? basta cucinaci la pizza gli hamburger la pasta ma ci serve come la pizza? mi sa resta la propria poca pizza ma non è stavolta vai rovesce tutto che casino che casino che cosa ti puoi cucinare? io voglio uno burger non puoi fare anche così senza pane va bene poi voglio un po' di pollo ma non è niente ma io ho fame poi voglio un pezzo di torta poi voglio uno dog poi voglio il pesce e poi voglio un po' di frutta è anche da cucinare quello deve la guadare ma che cos'è? mi ha fatto il mio no mi ha fatto il mio ma che cos'è? abbiamo un altro animale con noi che bellino ma anche lui manda qualcosa cosa ci cuciniamo? questo è un avvertimento che succede per cucinare ma se non attendi il fornello ma per il cane si è per me no? ma me non cucini? allora aspetta prima per il cane ci vuole ci vuole mangiare la costoletta quella mi piace allora prima della finire finiamo ah! torniamo a terra tieni che bello ora tocca a me a mangiare ora tocca a me a mangiare che bello che carina la pecora queste che cose? che carina la pecora allora pego la pecora allora cucina anche per me non per la pecora no tu per la pecora ah! beh! ma lo sai che le pecore sono vegetariane non mangiano la carne e come cucina la pecora la pecora non mangia la carne ma non mangia la carne la pecora mangia la frutta mangia le verdure ma cosa fai la pecora? cosa fai la pecora non mangia le pecore allora in lingua e nella cauma ah! poi ho questo oeste oi Dias vede di mandarti tutte ste cose? intanto la pecora non c'è che cosa mi dà come fa ecco il kiwi kiwi ma no basta cosa siamo no? ecco impazzita hai visto? fare il cattivone fare il cattivone non sei il cucino che io tu sei buono hai già mangiato basta bambini noi vi dobbiamo salutare perché stanno arrivando troppe animali e qua non ce la facciamo più grazie grazie se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevelo con l'olio ciao bambini ciao bambini